Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi Match Day ed è per quello che non ci saranno troppe cose da dire. Ci prepariamo alla nostra bella e tranquilla partita di Coppa Italia e quindi immaginatevi di mettervi qui ad ascoltare un video che non ha nulla a che vedere con il momento della Juventus. È un video di fantasia, un video che si proietta al futuro, che dice cose assurde, che vi riporta quello che mi è arrivato e di cui si sta parlando anche in rete. Quindi, davvero, nella tranquillità più totale, ascoltate questo video con la consapevolezza che stiamo parlando del nulla, il nulla cosmico, però due chiacchiere ci stava a farle, dato che so che ormai la pausa pranzo è diventata appuntamento fisso per tanti di voi. Quindi un mi piace, ragazzi, e parliamone. La prima notizia che vi voglio dare è la seguente. Un altro giorno un mio amico mi manda il seguente screen su WhatsApp. Orge, get Juventus, PSG, Manchester City on the phone, I don't care, I change my mind, I can't take this anymore. Ed è sostanzialmente la foto di Cristiano Ronaldo che esce dal campo con la maglia del Manchester United, tra l'altro virgolettato, Ronaldo ha detto esattamente queste cose, testuali parole di Ronaldo, ha detto di chiamare queste tre squadre. Io me la vedo, no? La scena in cui c'è, diciamo che Rubini arriva bene, Agnelli, Nedved, tutti allegri a cena, e squilla il telefono di Agnelli. Oddio, chi è? Orge Mendes? Ma come Orge Mendes? Sì, sì, è Orge Mendes, ragazzi, ma mi stai richiamando. Ma cosa vuole Orge Mendes? Non so, rispondi. Pronto? Pronto, Agnelli, sì. Eh, sono Orge Mendes. Sì, ciao, avevo visto il numero. Cosa c'è? Non è che volete Ronaldo? Ma Ronaldo Viera della Sampdoria, un po' più giù? No, no, Cristiano. Scusa un attimo, ma sei consapevole del fatto che Cristiano ha giocato da noi e poi ha fatto il diavolo a quattro per andarsene gli ultimi giorni del mercato? Eh, sì, però non è più contento al Manchester United, quindi non è che vorrete riprendere o riproporre una avventura a Cristiano Ronaldo alla Juventus. Andrea? Andrea, ci sei? Andrea? Cosa voleva? Ma niente pubblicità, una roba del genere, no? Perché come può nascere una trattativa di questo tipo? Perché poi nei commenti c'è anche qualcuno che ci crede, no? I commenti di quella pagina Facebook sponsorizzata, non la conosco, Game Sports. Però mi ha fatto ridere perché nei commenti anche alcuni tifosi del evento mi hanno detto magari quella... Ve lo vedo, anche Ronaldo che arriva e dice va bene, sono tornato, Vlaovic da 1700. E Vlaovic dice no, me la tengo io. Eh, cosa facciamo? Cristiano 29 come De Ceglie. Un bel Cristiano 29 come De Ceglie. Ragazzi, sono robe che sono fuori dal mondo. Sono come un po'... Cristiano ha fatto 37 anni mi pare l'altro giorno. La Juventus si aveva fatto 4 anni di contratto proprio perché poi all'ultimo anno avrebbe ragionato qui e là. C'è stata una rottura. La Cristiano ha avuto svoluto da Cristiano. La Juventus si è trovata nella merda. Adesso Ronaldo non è con i clicci al Manchester. Ropperone, un grosso in bocca al lupo per il futuro. Mi auguro che tu possa trovare una sistemazione migliore. Però la prossima volta ci pensi prima. Nel senso che non è che noi adesso... Beh, mi revendo, no? Poi la Juventus che dice no, politica sui giovani. Quella dopo che sia andato Cristiano Ronaldo lo ricompriamo. E gli ridiamo 31 milioni di euro all'anno dopo che stiamo cercando di abbattere i costi. Sì, sì, sarebbe veramente un trend da seguire terrificante e positivo. Poi quello che è Cristiano sul campo secondo me non si discute. C'è gente che nei commenti scriveva Eh, gli anni passano per tutti e quella... È vero, passano per tutti. Ma Cristiano Ronaldo è e rimane un campione. Mi dicono che Cristiano sta andando molto male in Inghilterra. Però, ragazzi, va bene che in Premier non ha segnato una valanga di gol. Va bene che in questo momento lo United, anche complice di qualche partita a recuperare, non è fisso nelle prime quattro posizioni che garantirebbero la Champions. Però in Coppa dei Campioni questo ha fatto, mi pare, sei gol in cinque partite o viceversa. Una roba del genere. Chiedetelo all'Atalanta, lo sa bene che cosa significa giocare contro Ronaldo in Champions. È una mina vagante. Lo United. Finché ci sarà Ronaldo sarà considerabile una mina vagante. E penso che il valore di Cristiano sia difficilmente... È difficile metterlo... Prendiamoci chiaro. Adesso stavo cercando di organizzare la frase in una maniera, ve l'ho detto. Questo video sarà un po' così. Ma come si può ancora mettere in dubbio Cristiano Ronaldo? Come? Questo è vero che ha un'età elevatissima. Ma fa parte di quel momento dello sport in cui l'età è soltanto un numero, effettivamente. Perché uno come Ronaldo magari ci crede e dà di più rispetto anche a uno con qualche anno di meno. È ovvio che poi se una squadra deve andare a farci un investimento. E non si parla di un investimento di quattro gole a due ore e cinque patatine. Si parla di milioni e milioni e milioni di euro. Non conviene. E lo dicevamo per Vlaovic. L'investimento che si fa per Guini e Ronaldo è una cosa. L'investimento che si fa per Vlaovic è un'altra. Perché uno è un investimento vero con il di Vlaovic. L'altro è un investimento a fondo perduto. Quindi, per riassumere, se qualcuno ha davvero letto questa notizia, se qualcuno si è messo nella testa o si è posto la domanda Ma davvero potrebbe... No. No. Io non mi sbilancio mai. Qua ve la do veramente al 100% di impossibilità. Anche perché io ho già fatto il cartello Guini e Ronaldo. Adesso che è arrivato Vlaovic assume ancora più significato. Se poi torna Ronaldo mi smonta tutto. Vabbè, scherzi a parte. E come si può pensare che la Juventus possa tornare ad acquistare Cristiano Ronaldo? Magari il figlio. Ecco, sul figlio ci passiamo un pensierino. E invece ci sono due giocatori che sono caduti un attimino nella testa. Hanno quel focus. Sono lampeggianti lì così. Perché ieri abbiamo parlato dei rinnovi di contratto, no? E vi ho detto la posizione che è la strategia che utilizzerai su tutti i rinnovi giocatori di scadenza Juve. C'è una società di calcio in Italia però che sta andando a seguire un modello differente da quello standard. Che è il Bayern di Monaco. Ok? Il modello Bayern di Monaco. E la squadra è il Milan. L'ho costruita malissimo questa frase. Ma è il Milan che sta emulando il Bayern di Monaco. E il Milan l'anno scorso ci ha dimostrato che ha fatto uscire dei giocatori. E che giocatori? C'è la Noglu. È Donnarumma. Insomma, avrebbero fatto comodo tutti e due. La Juve mi pare di capire. A parametro zero. Senza rinnovarli. Ok? Perché non si vuole andare oltre un certo tetto salariale. E credo che sia una linea dura ma efficace. Poi io con la Juve mi auguro sempre di mantenere comunque i giocatori forti. Proprio perché i sconti alla fine non ce li metto io. Sono una faccia da sedere. Però capisco la linea del Milan e per quanto faccia un po' fatica a dire speriamo che anche la Juve la faccia. La capisco ed è una linea futuristica anche, abbastanza logica e sicuramente che alla lunga andrà a premiare. E ci sono due calciatori che sono in scadenza di contratto proprio con il Milan. E sono due giocatori che spesso vengono accostati da Juventus anche con forza. Il primo è Romagnoli e io Romagnoli me lo immagino come giocatore che alla Juventus stanno monitorando per il post Chiellini. Dato che è un mancino, è un giocatore d'esperienza, è un gruppo storico della nazionale italiana. Ora non è più un titolare o è più un convocato ma ci sono stati degli anni che comunque ha fatto gruppo e quindi conosce bene o male tutti i giocatori che giocano nella Juventus. Quelli che hanno militato anche nella nazionale italiana e fidatevi che sono cose che vanno a vedere proprio per ricostruire un gruppo squadra. Che chi ha la logica ha senso perché è più facile lavorare con dei giocatori che sono già inseriti e hanno già delle conoscenze. Però stiamo parlando di un 27enne per un classe 94 che vuole tanti soldi e secondo me di livello non siamo proprio a livello altissimo. Però secondo me la Juventus non monitorerà e tanto, proprio perché abbiamo detto che il Milan sta seguendo quella linea, la Juve sta seguendo una linea inerente relativa ai giovani. Però credo che non si farà scappare comunque l'opportunità, o forse 95 Romagnoli, l'opportunità di tesserare Romagnoli se dovesse abbassare di tanto le sue pretese economiche. Anche perché poi il prossimo anno va in scadenza a Rugani e c'è sempre quel punto interrogativo sul discorso d'élite. Secondo me Rugani ha fatto delle buone prestazioni fino adesso, ma come quarto rimane un po' un problema. Quindi secondo me Romagnoli è uno di quei nomi che la Juventus ha nel mirino, ha cerchiato di rosso. Il secondo è Chessy. Ecco, Chessy mi pare esattamente, esagero, se penso alla Serie A, credo che Chessy sia il centrocampista più ideale per il gioco di Allegri. Perché è un giocatore fisico, un giocatore tecnico, un giocatore intelligente, un giocatore che non ha bisogno di, lo fa già lui. Quindi Chessy mi pare veramente un giocatore idoneo al gioco di Allegri. Tra l'altro ieri sera il Milan ha vinto 4-0 con l'Azio, che si ha pure fatto gol. Mi pare che Romagnoli abbia addirittura fatto l'assess per le A, o mi è parso di vedere in una clip. Quindi, insomma, due giocatori che ieri sera hanno fatto anche molto bene, però Chessy al Milan eventualmente sta rifiutando degli ingaggi elevatissimi. Se dobbiamo proporre 8 milioni, 9 milioni, perché se leggono queste cifre qua, di euro l'anno Chessy, io un attimino vado un po' più cauto. Perché è lo stesso discorso che stiamo facendo per Dybala. Quando hai un tetto salariale così alto, per me Dybala a livello sportivo è da rinnovare a tutti i costi. A livello di dare tutti questi soldi a un giocatore che poi andrà sui 33 anni e 34 anni al termine del contratto, si fa un po' fatica, soprattutto quando sai che devi cercare il stenozo della cinghia e certe cifre proporle solo veramente a chi hai la certezza, al 100%, che possa essere il tuo faro nei prossimi anni. Ripeto, per me sportivamente Dybala quello è. Però capisco che mi dice che sono tanti soldi, come sono tanti soldi quelli di Ulaovic, come sono tanti soldi quelli di Allegri, come sono tanti soldi quelli di De Litt. Quindi a un certo punto poi la Juventus dovrà capire dove andare ad investire. E' logico che se poi De Litt esce, si libera dello spazio salariale e questi possono essere riconvertiti su altri giocatori. Però stiamo parlando davvero del niente come in tutto questo video e un po' di dubbi eventualmente nel dare tutti questi soldi a Chessy ce li ho. Poi mi immagino un centrocampo composto da Chessy, McKennie, Romagnoli, Zaccaria e Artur. Insomma, penso che sia un gran centrocampo, veramente un gran centrocampo. Con il ritorno anche di Chiesa e eventualmente Paolo Dybala che rinnova. Quel tridente lì, Dybala-Chiesa-Vlaovic con Locatelli, Zaccaria e che sia centrocampo. Ammetto che inizierei a divertirmi. Poi per Romagnoli probabilmente stiamo parlando di una riserva perché sì, parliamo di un potenziale titolare. Quindi occhio a questi due nomi perché il Milan ci ha dimostrato che loro non hanno tanti problemi a dire ciao e grazie. E noi invece sui parametri zero abbiamo sempre un occhio di riguardo. Soprattutto se giocano in Serie A e se sono giocatori che possono essere interessanti per l'allenatore. E niente, era proprio una chiacchiera veloce così ragazzi per tenervi compagnia in pausa pranzo. Toccato temi non richiesti, temi anche non di attualità, temi anche sul futuro, un sacco di lazioni. Fatemi sapere un po' la vostra su questo video chiacchiera.